Frank. Frank non si accorse di brillare. Più tardi, Jason gli spiegò che la benedizione di Marty lo aveva ammantato di una luce rossa come a Venezia. I giavellotti non potevano sfiorarlo, le pietre venivano deviate. Anche con la freccia che gli spuntava dal bicipite sinistro, Frank non si era mai sentito così pieno di energia. Il primo ciclope che incontrò cadde così in fretta da sembrargli quasi uno scherzo. Frank lo affettò in due dalla spalla alla vita, polverizzandolo. Il ciclope successivo arretrò innervosito, così Frank gli tagliò le gambe e lo scaraventò nell'abisso. I mostri rimasti dalla loro parte del baratro tentarono di ritirarsi, ma la legione li distrusse. «Formazione Tetsubo!» gridò Frank. «Fila legionari lo seguirono, con gli scudi serrati ai fianchi e sopra le teste, a deviare ogni attacco. Mentre l'ultimo degli zombie finiva di attraversare, il ponte di pietra crollò nell'oscurità, ma quel punto non aveva più importanza. Nico continuava a evocare altri legionari perché si unissero alla battaglia. Nel corso della storia dell'impero migliaia di soldati romani avevano combattuto in Grecia, trovandovi la morte. Adesso erano tornati, rispondendo alla chiamata dello scettro di Diocleziano.» Frank si aprì un varco, distruggendo tutto quello che incontrava sul proprio cammino. «T'incenerirò!» strillò uno dei telchini, agitando come un pazzo una fiala di fuoco greco. «Ho il fuoco!» Frank lo stese in un secondo, poi scaraventò la fiala con un calcio giù dal baratro prima che esplodesse. Un'empusa gli conficcò gli artigli nel petto, ma lui non sentì niente. Disintegrò il demone e andò avanti. Il dolore era irrilevante. La sconfitta era impensabile. Era il capo di una legione adesso e faceva quello per cui era nato. Combattere contro i nemici di Roma, difendere la propria stirpe, proteggere la vita dei compagni. Era il pretore Frank Jung. I suoi reparti spazzarono via i nemici, stroncando ogni loro tentativo di riorganizzarsi. Jason e Piper combattevano al suo fianco, gridando in tono di sfida. Miko si aprì un varco fra l'ultimo gruppo di figli della Terra, con la spada di ferro dell'ostige, riducendoli in mucchi di argilla bagnata. Piper fece a pezzi l'ultima impusa, che si disintegrò con un gemito angosciato. Prima che Frank se ne rendesse conto, la battaglia era finita. «Frank, stai andando a fuoco!» disse Jason. Il figlio di Marti guardò in basso. Qualche goccia di petrolio doveva essergli schizzata sui pantaloni, perché stavano cominciando a bruciare. Frank li colpì con una mano finché non smisero di fumare, ma non era preoccupato. Grazie a Leo, non doveva più temere il fuoco. Nico si schiarì la gola. «Hai anche una freccia che ti spunta da un braccio?» «Lo so!» Frank staccò la punta della freccia e ne strasse il fusto. Tirandola, senti solo un lieve bruciore. «Me la caverò!» Piper gli diede da mangiare un pezzo di ambrosia. Mentre gli bendava la ferita, disse «Frank, sei stato fantastico! Terrorizzante, sì, ma fantastico!» Il figlio di Marti non capì subito. Terrorizzante non poteva essere la parola giusta. Lui era soltanto Frank. Poi l'adrenalina si esaurì. Frank si guardò intorno, domandandosi dove fossero spariti tutti i nemici. Gli unici mostri rimasti erano i legionari non morti e se ne stavano lì fermi e storditi, con le armi abbassate. Nico sollevò lo scettro. La sfera era scura e inattiva. «I morti non rimarranno per molto, ora che la battaglia è finita!» Frank si girò verso le truppe. «Legione!» Gli zombie scattarono sull'attenti. «Avete combattuto bene! Ora potete andare!» I soldati crollarono formando mucchi di ossa, armature, scudi e armi, che poco dopo si disintegrarono. Anche Frank ebbe la sensazione di essere sul punto di crollare. Nonostante l'ambrosia, il braccio ferito cominciò a pulsare. Aveva gli occhi appesantiti dalla fatica. La benedizione di Marte era svanita, lasciandolo svuotato. Il compito però non era ancora concluso. «Eisel e Leo!» disse. «Dobbiamo trovarli!» I ragazzi scrutarono dall'altra parte del baratro, all'estremità opposta della grotta. La galleria in cui Hazel e Leo erano entrati era sepolta sotto tonnellate di detriti. «Non possiamo andare in quella direzione!» disse Nico. «Forse...» All'improvviso vacillò. Sarebbe caduto se Jason non lo avesse preso al volo. «Nico, che c'è?» domandò Piper. «Le porte della morte!» rispose lui. «Sta accadendo qualcosa!» «Persi e Annabeth...» «Dobbiamo andare subito!» «Come facciamo?» disse Jason. «La galleria è sparita!» Frank serrò i denti. Non aveva fatto tutta quella strada per starsene lì con le mani in mano, mentre i suoi amici si trovavano nei guai. Non sarà divertente, ma un altro modo c'è.